Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo Se non ci conosciamo, ci conosciamo con uno svuota la spesa Mia mamma mi ha fatto due bustoni di spesa Uno e due E li andiamo a sfare Mi ha preso due bottiglie d'acqua Perché ho già una cassa d'acqua in casa Me ne ha prese altre due Poi mi ha preso tre confezioni di questo latte Zimil Perché è la confezione quella da 500 ml Non ho trovato quello col tappo verde Ho preso queste E ne ha preso tre confezioni Eccolo qua Mio papà mi ha ceduto il suo Il suo Zimil Una bottiglia di culo verde ce l'ho Poi Poi Tre confezioni di decaffeinato ricco Della lavazza Queste qui Per la macchinetta quella che avevano loro Adesso hanno preso un'altra macchinetta Io ho la macchinetta vecchia in casa Per questa Poi Poi Ha preso due pacchetti di mangime Per i miei I nostri uccellini Io ho un bengalino e un pettino su Almeno hanno la scotta Le mangime Poi Finalmente Mi ha trovato la mia adorata Regina Blitz Finalmente la porta E ne ha presi Due Confezioni Ha preso due confezioni di Regina Blitz Così ho la scorta Poi Una confezione di solvente per unghie Acetone finemente profumato Della Solbat Gaviole Potrebbe essere Sì Comunque Acetone semplice Perché io Il mio Lavorato a lei Me l'ha ripreso Poi Mi ha preso Poi Napisan Si Il mio Un Un sa di profuma un sacco di limone e sgrassa per davvero e ho sgrassato anche le superfici della cucina quindi è ottimo e mi ha preso fresh and clean minuto disinfettante quelle da 60 salute un pacco grande io ho preso quelle da borsa praticamente e queste sono ottime poi mi ha preso questo cubotto deluxe ovetti ripieni crema di nocciole insieme a questo perché è il regalo di compleanno che voglio fare la mia suocera solo che non la posso vedere però appena la vedrò io vi darò sia uno che l'altro devo solo impacchettarli e saranno suoi infine qualcosa di beauty me l'ha comprata io volevo acquistare su internet il fondotinta di l'oreal quello quello dell'accordo farfait solo che la mia colorazione non c'è mai all'ipercoppe rivendo alcune cose non tutte dell'asso bio etic così mi sono fatta prendere c'era lo smalto i rossetti correttore fondotinta smalto e rossetti ho evitato mi sono fatta prendere il fondotinta e il correttore io dalla sovietic ho già provato la bb cream che mi piaceva molto anche se per la mia pelle mista tendeva un po troppo a lucidarmi e ho in utilizzo l'olio struccante che è buonissimo all'argan questo qui è fondotinta allunga tenuta spf 15 arricchito con jojoba long lasting foundation il beige d'oré 99 appartito d'orige naturale senza parabensi con coloranti sintetici poi tutto scritto in francese più o meno più o meno riuscite a capire che non c'è la rotazione in italiano questo era il beige d'oré il fondotinta c'è in quattro colorazioni la 1 esiste ma non è trovabile la 2 è rosata la 3 è beige d'oré la 4 è la più scura io ho preso la beige d'oré speriamo sia giusta mentre il correttore esiste la 01 la 02 io ho preso la 01 beige clair questo è 100% d'orige naturale 5 in 1 camouflage purifica illumina protegge antiocchiaie parabensi di con i coronanti sintetici tutto scritto in francese vediamo lì c'è o bb compact correttore universale 51 questo correttore è perfetto per nascondere l'occhiaia e borse imperfezioni il fondotinta fondotinta lunga tenuta uniformato e sublinato sublimato l'incarnato è perfetto tutto il giorno faremo un videotest sia di uno che dell'altro tranne la bb cream di makeup non avevo provato niente sono molto curiosa questo era lo svuota la spesa di ipercop fatto totalmente l'ipercop spero che il video vi sia piaciuto e stato utile in qualche modo lasciate un like e un commentino qui sotto dove andate a fare la spesa voi perché noi vicino abbiamo il penny market il lidl e un pochino più lontano l'ipercop sono quelli un po più di zona per non andare a intasare le altre zone essere un po più vicine a casa iscrivetevi al canale mi fa un sacco piacere io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao